Covid, fine di un incubo, è l'ora di ripartire. Oggi l'Italia ricorda le vittime del Covid. Sono 9.913 morti per il virus in Campania dall'inizio della pandemia. Intanto si va verso la fine delle restrizioni. Nonostante il ritorno dei contagi, i cittadini chiedono prudenza, ma c'è voglia di ripartire. Ucraina morta nel rugo è stato un femminicidio. Anastasia morta carbonizzata nel suo appartamento di Napoli, svolta nelle indagini, è stato il compagno di 53 anni ad appiccare le fiamme. La 23enne aveva deciso di lasciarlo e lui non si era rassegnato. Il cuore della campagna per i profughi ucraini. Sono arrivati finora oltre 6.000 rifugiati, ma i numeri sono destinati a salire. A Napoli un albero della pace a Ponticelli. Ad Avellino la marcia dei piccoli alunni delle scuole. E da Salerno partono altri due tir carichi di aiuti. Economia e il futuro green ha la mostra d'oltre mare. Dal 24 al 26 marzo, tre giorni di confronti con i prenditori ed esperti, grazie ad EnergyMed, la nuova sfida delle rinnovabili. In questa fase di crisi energetica ci sarà anche l'IVPC del presidente Vigorito. Dopo Covid nel Sannio riparte la prevenzione. Il virus non è ancora sparito. L'ASL di Benevento raccomanda prudenza, ma intanto guarda avanti e lancia l'invito ad aderire alle campagne di prevenzione oncologica che partiranno all'inizio di aprile. Imprese, effetto guerra, ok, e gli ammortizzatori in Irpini e nel Sannio. Gli effetti del conflitto si ripercuotono pesantemente su automotive e agroalimentare. Alla IA di Flumeri è già scattata la cassa integrazione per 13 settimane e tremano i pastifici De Matteis e Rummo. Eccoci, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura il Covid. Oggi l'Italia ricorda le vittime della pandemia. Sono 9.913 in Campania dall'inizio dell'incubo. Intanto il governo comunica il progressivo addio alle restrizioni nonostante il risalire dei contagi negli ultimi giorni. Vediamo. Nel giorno in cui l'Italia ricorda le vittime del Covid sono 9.913 dal marzo 2020 in Campania. Il governo comunica le misure previste dal nuovo decreto per dire addio alle restrizioni. Obiettivo riaprire l'economia e limitare la DAD. Dal primo aprile cessa lo stato di emergenza. Da maggio addio a Green Pass e mascherine anche al chiuso. E' importante che le attività riprendano e comincino finalmente a recuperare se è possibile quello che loro hanno perduto nel tempo. Sembra giusto, ovviamente andrebbero comunque monitorati i casi. Speriamo di uscirne entro la fine dell'anno. Anche i bambini ne hanno risentito tanto e hanno bisogno di ricominciare. La fine delle restrizioni coincide però con l'aumento dei casi nelle ultime ore, cosa che preoccupa i cittadini. Una volta che si allenta, quindi automatico che ci può essere un'altra volta un allarme, questa è la verità. Credo che non sia il momento perché il virus c'è, il Covid c'è, è una realtà, i miei paesi muoiono tanti e allora ci serve le precauzioni. Siccome io sono vecchia, la mascherina continuerò a portarla in parecchie occasioni. Intanto i carabinieri del Nasto di Napoli hanno arrestato una donna. Operatore sociosanitario avrebbe indirizzato diverse persone nel lab vaccinale di Napoli Capodimonte, nel quale due i suoi complici, già arrestati il 26 gennaio scorso, effettuavano false vaccinazioni. Anastasia, morta carbonizzata nel suo appartamento di Napoli, arriva alla svolta nelle indagini del decesso della 23enne ucraina. Ucraina sarebbe stato il compagno di 53 anni, anche lui ucraino. Vediamo. Inizialmente si pensava a un incidente domestico, invece quel ruogo nell'appartamento di Vico Sant'Antonio Abate di Napoli è stato appiccato da Dimitro Trembach, 53 anni, ucraino. L'uomo è stato fermato per la morte di Anastasia Bondarenko, 23enne, il cui corpo è stato trovato carbonizzato il 10 marzo scorso, nell'appartamento dove la donna viveva insieme alla figlia di 5 anni e altri connazionali. I due erano legati da un rapporto sentimentale, nonostante la grande differenza di età. Dimitro si era invaghito di Anastasia, di 30 anni più giovane, appena 18enne, aveva avuto una figlia da lui, poi dall'Ucraina, l'arrivo in Italia, dove Anastasia tirava avanti con lavori domestici e saltuari come badante. Dimitro, invece, era un operaio edile, con poca stabilità economica. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, i due litigavano spesso. Anastasia aveva intenzione di lasciarlo e per questo l'uomo, non accettando quella scelta, l'ha voluta punire, appiccando il fuoco nell'appartamento. Secondo quanto accertato dai militari dell'arma, la piccola sarebbe riuscita a scappare dall'abitazione perché si trovava lontana dal rogo avvenuto in cucina. La madre, invece, si trovava in bagno e quando si è resa conto della situazione, le fiamme si erano già propagate in quella zona dell'appartamento e per lei non c'è stato più nulla da fare. Lui, che era in procinto di lasciare Napoli, è ora sottoposto a fermo per omicidio. Si moltiplicano le iniziative solidali per l'Ucraina. In Campania, al momento, sono arrivati oltre 6 mila rifugiati, ma i numeri sono destinati a salire a Napoli. Piantato un albero della pace a Ponticelli. Vediamo. Non si ferma la macchina della solidarietà per l'Ucraina. La Campania si conferma tra le regioni più attive per sostenere la popolazione sul fronte di guerra e per accogliere i rifugiati. Oltre 6 mila per adesso le persone ospitate, ma il numero è destinato a salire. Un ponte solidale che interessa tutto il territorio regionale. Grazie a Dio che non si sono stoncati ancora di quella situazione che può portare veramente tanta roba, può portare medicinali, roba da mangiare, vestiti. Non aspettavo che i salernitani e gli italiani prendano in cuore la nostra situazione, questa grave. Iniziativa dal forte valore simbolico a Ponticelli, dove è stato piantato un albero della pace. Ogni occasione è utile per invocare la pace e ritengo il disarmo. Personalmente credo che l'unico modo per fronteggiare la guerra sia disarmare, avere diplomazia, avere segnali di pace, quale anche un albero in questo momento può rappresentare. Da Salerno partiranno due autoarticolati carichi di aiuti nell'ambito dell'iniziativa promossa dal papà di Asia, scomparsa prematuramente. Abbiamo pensato che potesse essere nobile raffigurare in lei la solidarietà di tutti noi, del popolo salernitano. Ad Avellino marcia dei bambini del quinto circolo di via Oscar d'Agostino. Il corteo, animato da cartelloni slogan, è giunto fino alla chiesa di via degli Mbimbo. I bambini veramente sono meravigliosi, hanno un senso di responsabilità, sentono proprio in maniera forte tutto quello che sta accadendo. E a Napoli lunedì si terrà la grande manifestazione di Libera contro le mafie per ricordare le vittime innocenti e in tutta la campagna intanto si susseguono incontri con gli studenti. Vediamo. Da Napoli l'urlo di 15 mila no alle mafie è presentato il grande evento di Libera del 21 marzo dedicato al ricordo delle vittime innocenti, della criminalità organizzata. In arrivo 300 bus con giovani da tutta Italia. Loro morti, uccisi, noi dobbiamo essere più vivi. Memoria viva, quella che si deve tradurre tutti i giorni, non un giorno all'anno, in responsabilità e in impegno. La scelta di Napoli come luogo per la giornata nazionale, questa grandissima e bellissima marcia, rappresentano per noi un evento simbolico fondamentale. Il grande impegno su questi temi è la città in prima linea, nella sua totalità. E anche ad Avellino si susseguono incontri con gli studenti verso il 21 marzo. Ieri i ragazzi del Rossidoria hanno incontrato il prete di Scampia, Don Aniello Manganiello, mentre stamattina quelli del Publio Virgilio Marone si sono confrontati con la giornalista ex parlamentare Rosaria Capacchione. Ciascun cittadino trovi la forza e il coraggio di non girare la testa dall'altra parte, ma di denunciare e di ricostruire quel tessuto che nella comunità trova la realizzazione migliore. Bisogna partire dalle scuole, perché è il primo nucleo sociale dopo la famiglia. C'è un obbligo sostanziale per costruire una società, speriamo, una società nuova e migliore. Se non si comincia dalle scuole, dove farlo, altrimenti? Il futuro green dell'economia verde fa tappa alla mostra d'Oltremare di Napoli con EnergyMed dal 24 al 26 marzo, la tre giorni per parlare di transazione energetica ed economia circolare. Si riaccendono i riflettori su EnergyMed, l'appuntamento di riferimento per la green economy alla mostra d'Oltremare di Napoli. Al centro della mostra convegno ci sarà il futuro dell'economia green, la transizione energetica e l'economia circolare. EnergyMed quest'anno vuole dare un segnale forte a tutti, alle famiglie, alle imprese, alle istituzioni sulla necessità di puntare sempre di più sulle rinnovabili, sull'energia pulita del sole, del vento. E questo è il dato di partenza della tredicesima edizione di EnergyMed che dal 24 al 26 marzo torna a svolgersi in presenza alla mostra d'Oltremare. L'eolico sarà il centro dell'incontro programmato per il 25 marzo in cui l'Associazione Nazionale Energia del Vento ha organizzato il convegno Stato dell'Arte dell'eolico in Campania, sviluppo obiettivi editor procedurali. Con la partecipazione dei maggiori player del settore eolico, che 8 Channel seguirà con una diretta TV a partire dalle ore 15. Alle 15.45 ad aprire la tavola rotonda sarà l'avvocato Oreste Vigorito, numero uno dell'IVPC. E anche la Regione Campania lavora molto sull'innovazione del settore delle energie e ne parlerà illustrando nel convegno la piattaforma di Open Innovation della Regione Campania e le nuove challenge in ambito energetico, una piattaforma per promuovere il potenziale di innovazione. È chiaro che gli enti locali e le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale perché devono dare l'esempio e quindi devono introdurre sempre di più sistemi che siano efficienti dal punto di vista energetico, che producono energia da fonti rinnovabili e noi al sud abbiamo giacimenti energetici del sole e del vento inesauribili. E torniamo alla politica, le dimissioni del segretario del PD regionale Leo Annunziata e il fronte anti De Lucchiano che si allarga. Vediamo. Alla fine da Roma è arrivata una richiesta perentoria, dimissioni e nuovo segretario regionale votato dall'Assemblea o scatta il commissariamento. Si rimette dunque Leo Annunziata, fedelissimo del governatore De Luca, segretario regionale del PD dal 2019, sotto accusa da quando ha dato l'appoggio politico a Mastella per Benevento alle scorse comunali contro il candidato del PD, sostenuto invece da Enrico Letta. Da qui la vendetta, ma non si arriverà a commissariare il partito. Il nuovo segretario potrebbe essere Stefano Graziano, ex parlamentare e attuale consulente di De Luca, un nome che potrebbe anche andare bene al segretario Letta perché era il suo referente in Campania prima dell'avvento di Renzi. Far fuori Annunziata è anche un segnale da Roma al governatore dopo l'appello contro di lui firmato da un gruppo di intellettuali e il fronte del no al sistema De Luca si allarga mentre si prepara una legge contro il terzo mandato. Gli anti-delucchiani si sono visti proprio a Salerno. L'obiettivo è quello di tenere lontano De Luca da Palazzo Santa Lucia. Ma Isaias Sales chiarisce che non è una battaglia contro il governatore ma una rivendicazione di diritti e democrazia. De Luca è il contrario della forza tranquilla. De Luca è la prepotenza rancorosa e quindi è esattamente il contrario di un'idea rassicurante della sinistra. Intanto la segreteria nazionale Dem prepara un altro commissariamento quello della federazione di Caserta mentre ad Avellino finalmente dopo sei anni di guerra interna si va a congresso con un accordo unitario che ha portato alla proclamazione di Nello Pizza nuovo segretario del PD Irpino. Oltre 500 nuovi casi di Covid nel Sannio il virus torna a preoccupare l'Asla di Benevento raccomanda prudenza però invita ad aderire anche alle campagne di prevenzione oncologica che partiranno all'inizio di aprile. Vediamo. I riparti Covid del Sampio tornano a riempirsi sono 37 ricoverati tra gli accessi nelle ultime ore un numero che seppur non allarmante segna una crescita dei casi di Covid-19 rispetto alle scorse settimane il virus continua a circolare sono 511 i casi emersi nelle ultime ore in provincia di Benevento e il direttore sanitario dell'Asla Maria Concetta Conte lancia l'appello a mantenere alta l'attenzione. Il fenomeno è uguale in tutta Italia c'è una recrudescenza che si mette in relazione a vari tipi di cause la prima potrebbe essere la maggiore socializzazione la seconda parla di eventuali sotto varianti dell'omicron gli indicatori settimanali eravamo intorno a 1400 lunedì ho inviato gli indicatori settimanali eravamo a 2002. Poi annuncia una campagna di screening dedicati alla prevenzione oncologica i controlli sono stati accantonati durante il periodo pandemico ora è tempo di riprendere. Cominciamo il 4 con 4 giornate a Benevento nei quartieri periferici continuiamo con il resto del distretto di Benevento e la parte rimanente del distretto di San Giorgio del Sagno io mi auguro anche grazie alle belle giornate che ci possa essere effettivamente un'adesione perché obiettivamente molte cose sono passate sotto silenzio e questo assolutamente non deve esserlo la prevenzione è il primo rispetto che noi dobbiamo a noi e alle nostre famiglie. In Irpinia e nel Sagno gli effetti della guerra si ripercuotono pesantemente sui settori dell'agroalimentare e dell'automotive alla IA di Flumeri è già scattata la cassa integrazione per 13 settimane vediamo. L'osservatorio della CISL Irpinia-Sagno è particolarmente attento alle ripercussioni economiche sull'Italia della guerra in Ucraina e i primi effetti si vedono già sul settore dell'automotive Sono aumentati i costi vertiginosamente per quanto riguarda le materie prime materie prime che si aggira intorno ad un aumento del 20-30% e quindi automaticamente tutto questo comporta sia delle spese maggiori per quanto riguarda i datori di lavoro ma automaticamente anche il costo del carburante dell'energia elettrica, del gas, del meredano aumentano ulteriori costi sia per le imprese ma anche e soprattutto per le famiglie Sulla provincia di Avellino abbiamo la IA che dal 14 marzo è stata sottoscritta alla cassa integrazione per 13 settimane e quindi questo ci preoccupa tantissimo Conseguenze da non sottovalutare potrebbero toccare secondo Vecchione anche il comparto dell'agroalimentare Quando parlo del comparto agroalimentare intendo i pastifici tenendo presente che sia la Romania e sia l'Ucraina sono i maggiori produttori al mondo di cereali, di grano e quindi automaticamente queste aziende stanno lavorando con le scorte Sullo sfondo il dato preoccupante della disoccupazione giovanile che si attesta nelle province di Avellino e Benevento al 60% Migliorare la vivibilità cittadina nel centro storico di Salerno si sta sperimentando un nuovo sistema anti-intrusione per contrastare i cattivi odori vediamo Salerno si dota di un sistema innovativo già sperimentato in altre realtà europee per fronteggiare la fuoriuscita di ratti e di insetti dalle caditoie e frenare i cattivi odori il progetto è stato presentato questa mattina in piazza Sant'Agostino I benefici che la comunità ne trarrebbe sono diversi oltre il proliferare delle zanzare anche la fuoriuscita di cattivi odori la risalita di animali infestanti quali blatte, scarafaggi e topi Lo strumento anti-intrusione denominato UNFO è stato installato in 30 tombini tra piazza Sant'Agostino largo Dugana-Reggia via Mazze ed alcune zone dei mercanti È un espediente che mi sembra intelligente che dà una mano all'igiene urbana dà una mano alla città dà una mano ai cittadini La sperimentazione durerà fino alla prossima estate ma Salerno Sistemi ha già fatto sapere che in caso di esito positivo sarà estesa anche ad altre zone della città in particolare a quelle del centro Da quando abbiamo in carico la fognatura quindi 2019 abbiamo immaginato di provare a dare e a migliorare tutto il sistema fognario e questo è un primo test oltre a quello che stiamo facendo sulla pulizia delle caditoie con una periodicità e con una costanza maggiore stiamo provando anche a svoltare e quindi a mettere in campo anche delle procedure innovative Commercio e agricoltura il Sannio prova a ripartire dalla tradizionale fiera di San Giuseppe a Benevento Vediamo Un taglio del nastro che simboleggia il lento ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia quello fatto questa mattina dal sindaco di Benevento Clemente Mastella per inaugurare la tradizionale fiera agricola di Casalinghi e di piante ornamentali di San Giuseppe alle spalle dello stadio Cirovigorito nella zona di Santa Columba un appuntamento decennale che mancava dal 2019 Bisogna sempre essere vingolata alla speranza qua ci sono tanti attrattori di speranza e attratti alla speranza per il futuro a loro come città di Benevento quelli fuori provincia verranno qua tanti che sono arrivati fin qua il nostro augurio di buona vita economica e sociale a tutti Un segno di speranza per l'economia cittadine non solo sono infatti tanti gli espositori che hanno aderito alla fiera Ripartiamo e ripartiamo alla grande la fiera di San Giuseppe ha un impatto sulla città importante una fiera storica ne abbiamo sentito la mancanza per questi ultimi due anni Soddisfatto anche l'assessore alle attività produttive L'auspicio alla normalità l'auspicio alla ripresa economica di questa città l'auspicio a fare in modo che sul piano commerciale si possa dare di nuovo impulso La fiera resterà aperta al pubblico oggi domani e domenica dalle 9 alle 19.30 ed è stata organizzata in tempi record dal comune di Benevento per accogliere oltre 120 espositori Un obiettivo voluto dall'amministrazione in carica che come tecnostruttura abbiamo assecondato ovviamente con degli sforzi notevoli perché naturalmente come al solito abbiamo difficoltà di bilancio Un piano di coesione territoriale per rilanciare le aree interne le risorse ci sono ma servono i progetti da Ariano il monito del sottosegretario Centinaio Un'unica cabina di regia per rilanciare le aree interne mettendo da parte logiche di campanile bandiere politiche e sindacali è il messaggio di unità che arriva dal centro fieristico di località Casone ad Ariano Irpino struttura anche questa da rivitalizzare poco distante dal cantiere in cui sta per sorgere la stazione Irpinia dal vescovo Sergio Melillo gli elogi per l'iniziativa che ha visto la presenza del sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali Gianmarco Centinaio e la sinergia tra i vari attori chiamati ad operare per la valorizzazione e il rilancio di quest'area cerchiamo di lavorare nel miglior modo possibile anche perché sulle aree interne io sono dell'idea che bisogna lavorare bene soprattutto per sviluppare i territori continuo a essere anche dell'idea che lo dico ormai da tantissimo tempo che lo sviluppo dei territori passa dai prodotti dell'agroalimentare dei territori abbinato alla qualità del territorio dove viviamo serve una coesione territoriale per rilanciare la filiera vitivinicola e cerealicola e erpina presenti all'incontro molti imprenditori e il delegato alle aree interne del ministro Mara Carfagna che tanto sta facendo per questi territori da anni martoriati Domenico Gambacorta promuovere il turismo riscoprendo i borghi dal Cilento al Sannio è il senso dell'iniziativa presentata all'Università di Salerno con l'assessore regionale Felice Casucci vediamo viaggiare per vivere e scoprire i piccoli borghi della campagna un progetto di conoscenze e promozione dei territori che vede coinvolti nove comuni dal Cilento al Sannio l'iniziativa passeggiate e fotografiche nei borghi è stata presentata ieri presso l'Università degli Studi di Salerno alla presenza dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci bisogno che è diventato realtà di convertire tutta l'azione sistematica del settore turistico verso una garanzia effettiva di tutela del consumatore turistico e si muove quindi nella direzione di un'accoglienza che finalmente fa coniugare fa dialogare le aree costiere con le aree interne i nove weekend si svolgeranno nei comuni di Castella San Lorenzo Castelnuovo Cilento Felitto Gioi Lustra Ottati Piagine Sant'Angelo Affasanello e Durazzano siamo molto orgogliosi ma siamo molto orgogliosi perché sappiamo bene la bellezza la qualità il pregio che c'è nel nostro territorio conosciamo benissimo il patrimonio straordinario e il potenziale soprattutto che c'è nel nostro territorio e quando c'è un'attenzione di progettualità come questa che tra l'altro vede anche l'Università di Salerno protagonista noi siamo ancora più contenti nove fine settimana durante i quadri riscoprire i valori autentici di donne e uomini che coraggiosamente continuano a custodire il cuore pulsante della nostra Italia le passeggiate fotografiche sono alla seconda edizione passeggiate fotografiche nei borghi in quali nei piccoli comuni del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e fino a arrivare alla Valle Caudina Beneventana è tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia grazie per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti